Ciao classe, ho fatto la 1-8-8 perché mi piacciono la macchina e viaggiare. Ho imparato a conoscere la vacanza italiana. Questo è significativo per me perché voglio viaggiare in Italia. L'Italia è più bella dell'America. Voglio guidare uno scooter in Italia. Sarebbe più divertente di una macchina. Mi piace la vacanza perché mangio cibo migliore. Voglio andare a Venezia perché è la più bella di tutte le città italiane. In Italia andremo a Musea. Fondremo molte cose belle.